buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale se è la prima volta che visiti la mia pagina youtube e ti piacciono i miei video iscriviti in questa ricetta voglio mostrarvi come preparare un secondo piatto di pesce veloce e gustoso useremo il nasello ma potete usare un altro tipo di pesce a vostro piacere metteremo le zucchine lo zafferano andiamo a preparare nasello allo zafferano la prima cosa che facciamo è lavare e tagliare le zucchine a julienne taglio le estremità taglio a metà e utilizzo principalmente la parte verde per questa ricetta prevedo di tagliare le zucchine a fiammifero a julienne come volete dei piccoli bastoncini le verdure sono pronte ora andiamo ai fornelli in una pentola antiaderente capiente mettiamo un filo d'olio spicchio d'aglio intero a pezzettini ma qui scegliete a vostro piacere a seconda del vostro gusto e lasciamo soffriggere vado ad infarinare il pesce quando l'aglio è ben soffritto e la padella è bella calda mettiamo il pesce appena prende un po di calore il pesce mettiamo il vino bianco andiamo a sfumare con il vino bianco in questa fase la fiamma deve essere alta in modo che il vino va a sfumare poi aggiungiamo un pochino d'acqua lo zafferano sciolto in un pochino d'acqua sale e pepe andiamo a mettere le zucchine portiamo a cottura girando ogni tanto il pesce aggiungere acqua l'occorrenza all'abbiamo a vedere ciao 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 Grazie a tutti.